Tornano in provincia il teatro di figura e le arti di strada della rassegna Figuriamoci, organizzata anche quest'anno dal terzo suono, con la direzione artistica affidata a Bamba Bambine di Paolo Rec. Sempre più ampio e variegato è il palinsesto che nel bellunese, avrà il primo appuntamento giovedì 6 luglio in quel di Arsie, per terminare il 16 e 17 settembre alla Mon. Burattini, marionette, giocoleria, teatro dei piedi e molto altro terranno compagnia a grandi e piccini. In questi anni che abbiamo proposto la rassegna Figuriamoci qua sul nostro territorio, abbiamo cominciato con spettacoli di teatro di figura, che sono marionette, burattini, pupazzi, ombre. Poi però abbiamo visto che la gente amava anche altri generi più vicini al teatro di strada, più adatto magari anche ai giovani. Questo ci permette di coprire un ampio range, un format molto allargato, che comprende sia soprattutto le famiglie, ma poi anche i giovani e meno giovani. I comuni bellunesi aderenti sono Alano, Arsie, Borgo, Valbelluna, Cesio Maggiore, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Querovas, San Gregorio, Santa Giustina, Sedico, Seren, Sospirolo e Sovramonte. Da segnalare come l'Unione Montana-Feltrina abbia destinato a Figuriamoci 5.000 euro derivanti dall'imposta di soggiorno 2022. Figuriamoci è nata qui nel Feltrina, è nata all'interno della comunità Montana-Feltrina e da allora si è ampliata. Gli 11 comuni dell'Unione Montana-Feltrina finanziano con proprie risorse e anche insieme all'imposta di soggiorno questa importante attività che facciamo nel periodo estivo. Un'attività che viene fatta non soltanto per i turisti, ma anche per le nostre famiglie residenti nei nostri comuni. Una delle più grandi rassegni teatrali che c'è ora in Veneto è proprio quella di Figuriamoci.